Ed ora veniamo, eh? Vediamo la lingua. Dove si trova l'acqua? Nella vendina. Si accomodi più, Rick. Vediamo la lingua. Vediamo la lingua. Vediamo la lingua. Hai fatto una paura, diavoletta. Esaminiamo i polmoni. Si distende in posizione di riposo. Sì, signore. Che cos'è? Una mia grande invenzione. Di prova polmoni. Novanta è normale. Se uno la sorpassa, accade certo qualcosa. Ed ora lo metta in bocca. Sì, signore. Non faccia lo sciocco. E mi dia una mano. No, 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 no. Faccia esattamente come ho fatto io. Avanti. Non parla di di oto. Non parla di di oto. No parla di di oto.